Quanto tempo dopo la sessione per le ammissioni si è ammalata? Appena arrivata a casa è collassata. I genitori sono distrutti, cercano risposte. Ha notato qualche sintomo? C'è qualcun altro presente alle sessioni? Ci sono gli insegnanti, nessuno di loro è malato. Vorrei chiamare la famiglia, offrire un po' sostegno. No, mi dispiace, non posso rivelare. No, mi si tratta di segreto professionale, capisce? È qui che si svolgono tutte le sessioni di gioco. Non c'è un'altra aula? Le facciamo tutte qui. Forse è meglio levare i giocattoli per sicuramente... No, 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 non li tocchi. Le dirò io se sono tossici. Farebbe meglio a ridurre la sua esposizione. Grazie. 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 Grazie.